Caro Tommaso, eccoci qui di nuovo con te e con la tua famiglia e con i tuoi amici, con i nostri amici e soprattutto siamo qui per vedere le tue opere perché nel sole di Monterosi tu hai prodotto con il tuo lavoro e con la tua creatività quanto qui di bello vediamo. Bello che ci dà anche il piacere di ritrovare quelle armonie che nella città si perdono. La tua creatività trova in queste opere, in ogni spazio, delle forme che determina quell'armonia nei colori, nei mezzi e nella luce e nella luce stessa ritrova l'opera tua viva e presente. Così oggi per caso, ma il caso è necessità di vita, vedo la tua operazione, vedo intorno quanto può essere utile nella perseveranza del rapporto per quel dialogo che l'arte con il lavoro porta avanti per Tommaso e per tutti. Vittoriosamente auguri. Allora, sulla pittura tutto è iniziato giocando, giocando quei colori. La parola giocare è fondamentale perché non c'è giudizio, non c'è voto e quindi c'è divertimento puro. Divertendosi escono fuori tutte le qualità interiori e riusciamo a volte anche a portarle su una tela, come in questo caso. Questo quadro in particolare rappresenta lo sviluppo di una mia ricerca, sempre giocando, sull'espressione del colore e sull'elettronalità molto calde, ma che diano comunque una figura. Per cui il colore è fondamentale, ma anche la figura entra peggio e fa parte del quadro. Inoltre ci sono questi materiali che uso, che sperimento, perché la creatività che fa parte sempre dello sviluppo artissimo, penso che sia importante. Quindi sperimentare, ricercare e non fermarsi mai, andare sempre avanti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.